ok appena l'andato sì non ho l'armi sono qua da me e non ho un'arma giuro ho zero armi anch'io ne vende io solo l'assalto quindi sono messa un po' andiamo a younger andiamo a younger riusci il tattico e il pump qua c'è il tattico verde se vuoi e qua e qua e qua e qua lo stiamo sei pronta 3 2 1 vai è l'altro visto è red 30 al tuo 44 in testa craccato mi ha scappellata c'è il 40 da quello sopra 39 da quello sotto no 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 uno è sopra e uno sotto craccati mio fatto 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 questo che mi ha lo scopato data che mi chiudo perché non posso editare ok mi sono da vita hai fatto tipo 30 buongrallato attaccato non è niente piante 2 appena morto non c'è mai per se mi ci si attraga un canguro di no c'è uno qua davanti a me lo vedo ok sei morto vedo l'altro doppia 33 31 ok è morto la maschina esplode cosa fa macchina mi sa ci fa ma è un bot 105 33 33 craccato l'altro 31 ma ha quittato destra dovrebbero entrare anche loro dalla tempesta raggio minchè se lo prendono scendo qui si esce? ah così? ok dai ma non è andato avanti guarda free safe l'hanno ucciso ecco qua dai non si può sparare dovremmo prendere questi a destra sai se li facciamo fuori subito questo che entra scusa no 23 morto 104 qua c'è uno qua c'è un altro free safe se lo diamo è perfetto ok allora arriva dov'è? va sotto la il fiume va a cerchinarlo c'è un altro solo dietro metti due metti due craccato metti due bianco metti due bianco di nuovo viene da schiacciare i tasti di code te lo giuro dove stai tu? ci si aggiucio dieci colpi mi viene da schiacciare per correre è la egg sta qua ok ha jumpato? ok ok che me che ho craccato qua sotto ma sono due uno sembra uno si sembrerebbe ma questo sembra fuori mi sembra un po' strano che bottino sono per forza dal tuo lato eh qua è io li sento qua eh sì sì buono shieldone te lo troppo vai sono qua davanti apri tutto qua davanti ci stanno uccidendo là e che sei andata allora i tasti e i giorgia sono qui ok non timo qua sotto non ho capito dove al mio pinga sotto ha proprio buildato quindi presumo timo qua sotto io quello là di fronte l'ho visto l'ho visto lo vuole restare ma non ce l'ha fatto mettete blu mettete blu mettete blu di nuovo vai vai mettete 5 blu prima volta non prendo lo studio mi sento bianco mi sento cercato sei craccato ok questo qua sotto qua sotto c'era uno ok ora siamo uno v uno cioè quello l'hai pingato e quello qua sotto da noi no no lo stai uscendo? sì ok io io jumpo low eh tanto è uno eccolo lo so lo so 29 54 108 vabbè la prima è red ok ma non ho capito è sceso qua davanti all'angare di fronte a noi sì possiamo andare anche cattivi eh oddio ho una k però è nel ponte craccato non si è fatto nessun barile questo starà andando ai barili quelli grossi non è possibile non posso fetarlo cioè c'è da tre entri c'è da tre craccato distrutto spaccato va bene va bene va in botte non si guardalo cioè eh ma devo c'è un altro craccato quello dietro craccato quello dietro ok ho fatto questo one shot una morte di in full damage ci vuole finire è tutto questo l'ho fatto l'avevo messo uno di vita no 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 l'ho visto no dai sei veramente una s***a no non mi guardare vai via va bene me ne vado ciao abbandonata da sola abbandonata io e e pure arrivata vabbè ho detto un curto la si si di romper voglio cercare un cecchino dai ferma dai 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 rozzata che fai grazie diverti ti zio che c'è gente bacalo 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 guarda me per cacolo morto è la terza dice c'è qualcuno a bianco lo so lo so c'è un'altra qua vedita vabbè 30 white ma a caso ho sparato ma non è via ma a caso ho sparato mi sono sparata a caso e mi ho uccisa ma ti rendiamo conto niente ma hai voglia di offendermi oggi no cioè non so quanti ma mi sono stato 37 in testa 108 perché saltavo dai dio sto cagato guarda cosa stai facendo faccio lo scudone faccio lo scudone lo cecchino mette quello sotto di rompere le palle no vabbè no vabbè sono no non mi so promuovere mi puscia dietro non è un problema c'è l'altro 35 che blocco quello che puscia bianco bianco quello che puscia c'è l'altro qua lo subboxato tranquilla 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 50 ho messato ma lo faccio lo faccio un bot bianco guanito guanito proprio uno proprio uno ma io c'è uno che mi sto pusciando non mi so farlo eh io c'ho anche 25 blu tranquilla 27 blu blu 27 ma distrutto un altro marty ma tu lì uno sotto giusto due sotto vai tranquilla vai tranquilla vai tranquilla mi sto curando ma l'altro lì è un bot marty 27 27 graccato 27 white 27 white fatto ho fatto così di cura l'altro devo solo riacquisire un po' la mira riprendo la mira sono 12 28 30 white 30 white scatto il mio morto mi conviene scendere ma scendi si scende 29 blocco lo sopra 30 e bianco morto dopo 23 quello in haig dai ma come non t'ho preso scusa aspetta non ho la giampa marty ce l'ho io ce l'hai vieni qua tipo 35 quello vestito da volpina cazzo 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 e bianco ora che ti pusha la volpina è one she questo no questo questo no la volpina la volpina la volpina gioca chill ok hai fatto uno hai fatto l'altro ok madonna leggi mi sto curando marty scusami dopo 30 circa flu con l'haig non ci credo è buildato chi ha messo la jump tu io 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 ma ero buildato crackato questo qua occhio dietro dietro ne abbiamo uno tipo 31 lo so lo so lo so crackato bianco ok vai mi copro degli altri fatto quello fatto c'è l'altro madonna che cicchina fatto uno che muore in tempesta no c'è l'altro c'è l'altro c'è l'altro che rompe sono one she devi buildare io non ho nulla vieni minchia non so più buildare faccia fare tutte te io non ho nulla ok io c'ho solo questo praticamente è finita appilla l'ho missato lui ma ha scoppiato a marty l'ho sei e io sono morta per la finca stava di là sì sei morta io sono morta di il che c'è è una zappa non sono morta non sono morta non è sì sì ho visto tutti li stavamo mettendo un one shot l'ho 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 l'ho